Quest'anno è veramente un'edizione grande, dopo due anni di Covid siamo ritornati, la chiamerei proprio la seconda edizione dopo il 2019 e siamo orgogliosamente ancora ai Giardini Valentini. Il nostro desiderio maggiore, e lo dico tenendo in mano questo bellissimo cedro a mano di Buddha, perché c'è un'esposizione, una mostra di agrumi che potete anche tra le tante cose ammirare qui agli orti mantovani, il nostro desiderio è di creare in questo giardino un po' nascosto un'oase di benessere. Le persone vengano, sentono cose nuove sulla coltivazione, vedono un libro, prendono una pianta, fanno due chiacchiere con un amico, si bevono un te seduti, cioè proprio due giorni di benessere in un giardino nascosto ma da valorizzare, da amare e da far crescere proprio anche con relazioni umane. Sono molto contenta che anche Mantua abbia la sua manifestazione di giardinaggio a livello nazionale, quindi entri nel circuito delle manifestazioni e sarei anche molto contenta se i mantovani la scoprissero insieme a quelli che vengono da Cremona, da Milano, insomma un po' di movimento c'è. Se n'è che un debù, non è che un inizio e quindi spero che nel tempo la cosa si ingrandisca e abbia bisogno anche di una sede più grande di questa che per ora va benissimo. Ci sono 25-28 espositori, ci sono laboratori per bambini, ci sono tanti piccoli input per chiunque abbia voglia di interessarsi al mondo del verde e al giardinaggio anche in città. Si apre la stagione, parte questa manifestazione che è Orti Mantovani che raccoglie un po' tutta una serie di proposte del territorio sull'argomento dei giardini e degli orti e noi di Parco Valeno siamo presenti perché anche noi ripartiamo, finalmente quest'anno dopo due anni di stop ricominciamo i corsi dell'Università degli Orti. Siamo arrivati al nono anno operativo di questa iniziativa di educazione ambientale per gli adulti che si propone di approfondire tutti i temi dell'ambiente con la scusa di approcciarsi alla coltivazione dell'orto e del giardino. Abbiamo un programma quest'anno che abbiamo costruito con parecchie novità e che presenteremo in questa occasione. Sono incontri serali che si svolgono infrasettimanalmente, un'oretta, un'oretta e mezza alla sera e inframmezzati anche da qualche laboratorio in cui si tocca con mano anche qualche cosa più operativa. L'attenzione che abbiamo rivolto in modo particolare quest'anno al riavvio dei corsi dell'Università degli Orti è particolarmente dedicata agli aspetti climatici della coltivazione dell'orto. La partecipazione è legata ad una prenotazione obbligatoria perché abbiamo un numero chiuso di 20 partecipanti quindi si può comunicare l'adesione per singolo intervento telefonando al numero di Parco Valeno